ma che cosa intenzione seria, normale, va bene dai non mi vergogno come ti vergogno? non ti guarda nessuno, tranne tipo ci manda mille persone non mi viene vai staccate non ce la faccio nemmeno io ok ciao ok stiamo giocando a minecraft, questa è mia sorella tipo è pazza ok, avevo messo un video con mia sorella tanto tempo fa, tipo oggi ho convinto perché mi ha comprato un elastico fitness esatto, quindi non cominciate a lavorare così perché prende soldi e allora, oggi giocheremo a minecraft la farò giocare a minecraft sa, sa, ti può giocare un po' solo che non sa mettere si, più o meno è così come giocare ai tasti allora, se giocare a minecraft e come si gioca a minecraft? no, vero non ho giocato niente ok, brava si cammina che cosa sono questi? le pecore? sono delle pecore lì c'è un po' di sparare sparare, con quale arma? lo puoi picchiare al massimo però a sinistra li picchi nel mouse aspetta, sinistra muori bruttamente si, ma non è andato incontro vabbè è morta non è morta, sono ancora lì vedi sta scappando da te muori oddio come è salta salta con questo ok, perfetto oh, non ce la faremo a deciderla oh perfetto muori scarsa sei morta allora, vedi che ti ha dato alcune cose ti ha dato la lana dove sta? il primitario, qua, sotto una cosa gigantesca qui e ti ha dato la carne per mangiare perché qua devi mangiare anche vedi, perché ci sono i cuori a sinistra e adesso c'è la fame mo, vedi che ci sono gli alberi? vedi che c'è un paio di alberi? vai a prendere un po' di alberi vai, grotto a sinistro sopra l'albero ditene premuto no, tieni premuto vedi che si fa così ok ti ha dato l'albero mo, prendi tutto l'albero prendi tutto l'albero prendi tutto l'albero prendi tutto l'albero prendi quel santo tronco puoi prenderlo da sopra perché c'è altre cose prendi gli altri sopra girati bravo oddio beh, non è difficile a posto che gioco di merda no, è un gioco di merda sei zitto ok prendi l'altro albero ma è finito sto albero no, non è infinito questo albero è finito è finito perché? allora, vedi che adesso sulla terza barra hai un ok, perché prendi i fiori? sono brutti rossi è solo rossi no, vabbè, ci sono altre cose sono rossi va bene allora, vedi la stessa barra qua a posto non devi fare così te la vedi normalmente sì, è il fiori io penso anche i fiori ho capito i fiori aspetta allora, vedi quella barra sotto? gira stai ferma stai ferma qua, ferma aspetta, la mela è il cibo bella che schifo il cibo, la mela devi pure mangiare qualcosa se no vabbè, che devo fare? allora, vedi se fai il tasto E ti apri l'inventario dove vedi che c'è la barra di sotto ok allora, cosa devi fare? prendi questo qua il terzo il tronco il tronco orabbè, l'inglese perfetto e cosa fai? così perfetto oh, brava allora, vedi che mi hai messo lì nella crafting? devi craftare altre cose ovvero, devi creare altre cose quelle lì sono la linea lavorata un pezzo di legno che ha quattro linee lavorate no insieme a una pannolina su un crafting ok quindi mo? mo le puoi mettere in inventario questo è tutto l'inventario quindi puoi usarlo dove vuoi e prendi anche l'altro crafting puoi metterlo dove vuoi uguale no, non puoi fare il crafting non tutti i crafting esistono allora adesso la lana non puoi metterla insieme allora prendi quella legna che hai lasciato lì perché se no cade ma non puoi mangiare non ha ancora fame prendi la legna perfetto allora, prendi la sicura lavorata che hai fatto all'inizio la prima ok falla a quadretto a quadretto col tasto destro col tasto destro no la prendi tutta ok prendi tutta no prendila proprio tutta tasto destro ok le posizioni uno su ogni parte opla bene ora metti quella a posto brava prendi la crafting quella qua lì che ti dà il prodotto ok la metti nel primo inventario la metti la metti qua qua dove vuoi ok fai esc così esce l'inventario e poi posiziona dove vuoi col tasto destro cos'è un fungo si un fungo gigante posso andare a distruggere non ti dà nulla cioè più o meno ti dà sotto i funghi altri funghi e basta appunto servono però dobbiamo far veloce perché poi arriva la notte e arriva la gente brutta quindi qual è il problema si non devi saltare non so è vero ok wow vedi ti dà i funghi ogni tanto ogni tanto ok ogni tanto ti dà i funghi va bene questo è un fungo gigantesco è un fungo gigante lo puoi far crescere quando vuoi vabbè nel frattempo lascia stare il fungo che non serve è finito si è finito è finito allora cosa fa non è finito lascia stare non ti serve il fungo adesso vai giù sei pazza allora questa è la terra normale mi serve la terra che ti serve la terra non lo so è perfetto allora fai così tasto destro con la crafting table in mano aspetta aspetta perché ok l'hai piazzata per terra visto e blocco tasto destro ancora e vedi che la sua cera è crafting più grande di prima vero ok cosa vuoi fare mo beh no non è più o meno non è così non è così non va bene così però è giusta l'idea è giusta l'idea prendi tutti quelli blocchi fai così tieni per mutare allora metti qua perfetto prendi gli altri blocchi ok aspetta e tiri qua il primo inventario allora prendi questi qua e trasformali come hai fatto prima come lo stesso modo di quello di prima no no insieme devono stare tutti tutti lo stesso punto perfetto ok ma prendili tutti trasforma tutto trasforma tutto no trasforma tutto non ti serve prendere un altro trasforma tutto bravo clicca ancora ok mo devi fare il piccone che ti serve per rompere la pietra non si fa così non ti da niente un crafting del genere non esiste allora tu prendi tutto adesso così fa tutto quanto bravo allora posso cosa devi fare metti due di fila uno e sotto un altro no sotto sotto proprio sotto nel quadratino sopra no è scemo va bene allora prendi i blocchi brava sotto allora blocchi sotto ci vuole tanto ok vedi ti da gli stick che schifo ok qua li prendiamo prendi da capo la legna che non ti serve più col modo prendila prendila brava ok metti gli stick a due nel mezzo nel mezzo no no nel mezzo no nel mezzo è questo questo ok 9x9 nel mezzo metti nel quinto nel settimo blocco no quale è il nono tre come li stai contando li stai contando l'ultimo non è quello sotto ok quello sotto perfetto a posto lascia gli stick nell'inventario perfetto prendila capo la legna sto facendo un 8 nel frattempo fai un piccone così fa il piccone indovina no non si fa così non si fa così però più o meno ci sei riuscita allora devi levare questi 4 blocchi dal laterale leva quello leva gli altri no le altre di sotto le altre di sotto ok vabbè facciamo così devi metterli 3 in orisontale 3 solamente non ti serve vabbè fai così oh piccone prendi piccone questo è per ammazzare la peccola no quello è il piccone normale a posto e me lo metti nel primo inventario no devi stanto metterlo nel primo però adesso bravo adesso prendi quella legna prendi quella legna cos'è questa no quello è un bottone non ti serve il bottone non ti serve il bottone non sprecare così allora prendi questa legna la metti due in orizzontale così al centro al centro 1 e 2 perfetto e sotto ci metti un bastoncino findus no non findus non fare pubblicità occulta ok la spada per uccidere le pecore la metti nel secondo inventario oh che bello ok dove vuoi quale che vuoi ok qua tu non è che cambia qualcosa vabbè brava ho capito che non serve a posto prendi lo stick tu servi prendi lo stick ciao stick ecco ok esci no giù mettilo giù dove vuoi dove vuoi lo puoi mettere non ti interessa sei inutile vai dietro vabbè lascia stare fai brava allora prendi adesso questa cosa rompila io ho cambiato così e oh ma tu ho magia o mio mio dio si ma allora cosa devi fare devi colpire questo cuoso col tasso sinistro perfetto vedi che lo rompi perfetto allora va la pena ti servi soldi inutili non hai spiegato soldi allora adesso torna indietro torna indietro ok le pecore sono quasi morte va sulla destra adesso no ancora sinistra sinistra da qua sono le pecore allora quel coso verde non ci deve andare vicino perché prendi i fiori cosa diciamo i fiori servo vedi no cos'è questa bruttezza esplode fa boom eh mo eh mo è morto c'è qualcuno no è morto è morto è morto non è che allora è notte quando c'è la notte arrivano i zombie arrivano i scheletri arrivano tante cose brava sì quale è l'idea però se fai così li vai contro perché là stanno vedi che stanno uno scheletro e uno zombie non è uno scheletro siamo una renna oddio è un coniglio guarda no quei conigli no quei conigli sono cattivi lascia sta lascia sta no no oddio cos'è questa cosa brutta è uno zombie muori questa merda mi sa che sta a fare ok però se tipo così molto a caso vabbè è ucciso brava che sono queste cose ti ha dato la carne cos'è la carne sì però la carne marcia tali che tali che spara quello spara quello ti spara chi è quello là è uno scheletro ti ammazza ti ammazza lascia sta sta merda ma lascia sta lascia sta i conigli lascia sta i conigli mi piacciono perché li vici di un coniglio la merda vabbè ti dà la carne di coniglio allora scappi scappi magari ti ammazzano hai una vita ti ammazzano vabbè corri puoi correre premendo due volte W ok brava no devi tenere due volte e puoi tenere premuto brava perfetto vedi che sei un po' intelligente assenta quel quel cespuglio quel creeper no non è andare contro non è andare contro che ti ammazzano questo è malato aspetta non è che ti ammazza ti ammazza non è malato allora vedi che ci sono altri magari tipo vai sulla sinistra magari non li vedi vai attenta attenta no che ti ammazza sono morta fai rispondere ritorna allora gira gira allora cosa facciamo andiamo a prendere la roba che hai perso no dai dai aspetta cosa ti fa ma se no no te muori madonna muori va bene riusciremo a prendere qualcosa va bene vedi mi metto la carne sì ma non mi interessa della carne allora la conigli mi guarda sì non lo fare cosa deve fare non ti fa niente muori solo perché mi hai guardato ok buono capite che persona strana è ok gira a sinistra aspetta guarda che scemo questa ma se come scemo non ti devi uccidere il coniglio il coniglio è buono ah è tutto che è cattivo ma il coniglio non è cattivo gira gira l'altra cosa facciamo non avevo preso maia maia stanno sparando dietro quindi vai avanti corri da questa parte fate esplodere il creeper qua avanti ne sta la tua roba deve stare quella che hai perso ti ricordi allora un po' più avanti gira gira vicino al fungo ma sinistra oddio chi sta dietro no ok gira a sinistra gira a sinistra qua sopra vai per sua roba ok sali eccola lì la tua roba perfetto prendi prendi la spada prendi la spada uccidi quello vai cambia 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 con no con il tasto centrale non riesco la sua centrale del mouse scappa 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 gira ti gira ti gira ti scappa no non con la mela non con la mela ok mo ci muori cambia non col coso con la spada col fiore come col fiore ti ammazza ti ammazza sei morta aspetta non sono ancora morta ok è ancora mezzo cuore cammina corri 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 ti viene a prendi vieni a prendi ti ammazza aiuto e corri non devi saltare devi correre allora ti spiego una cosa importante in minecraft è devi correre cosa fai tu arrivi qua molto semplicemente vedi che non è difficile oddio ma c'è un po' di gente qua allora cosa fai molto semplicemente fai in questo modo corri ci vuole tanto a correre vedi che è facile a posto tu giri gli scansi ciao ciao è così qua lo lasci fai col sinistro con la spada lo ammazzi non col fiore perché il fiore non serve prendi la roba ok magari prendiamo tutta questa roba che abbiamo perso che è quella nostra me l'ha fatta perdere tutta no mo la riprendi tutta aia zombie di merda quello piccolino fa schifo ok e ci andiamo a posizionare una caverna anche perché è notte in notte non si può camminare qua vedi quanto su destra mangi vedi oh vedi che bello perfetto lascia il telefono per il momento allora adesso cosa facciamo non c'abbiamo nulla vabbè ci facciamo un'altra carting table prendiamo un po' di legno cioè io faccio il totto davanti scusami vai vai allora magari controlla sulla sinistra che sta arrivando uno zombie no ok ecco il tipo qua prendi la spada prendi la spada la spada dall'altra parte vai tasso sinistro bravo bravo mi ho rotto si ma non devi andare avanti se no muori è morto perfetto è morto ora posso non con la spada prendi la mano nude vabbè con qualsiasi cosa sinistro sinistro lo prendi prendi girati girati uccidi lo spider uccidi lo spider lo spider che schifo che schifo è un ragno che schifo è un ragno gigante come che schifo muori è morto peccato va bene facciamo a scuola magari vai qua giù 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 allora guarda qua qua c'è una cesta cosa è una cesta è una una scatola vai 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 avanti prendila coltato destro coltato destro la peccola non è rosa un maiale quello vai avanti vai avanti ha preso ha premuto lei vai avanti ok tasto adesso su quella c'è la roba dentro la prendi prendi tutto prendi tutto allora prendi quello prendi la cosa vedi che la linea sta in colori diversi abbiamo la legna pure rossa che è bella fa un po' schifo vabbè e fa schifo prendi la plank ok adesso fai ask ok girati girati andiamo a trovare qualcosa di che luce è giorno no non è giorno c'è la luna non è giorno girati allora fai così fai così gira di qua cos'è? è un creeper è quello di più anche fa boom no non piace ok vai avanti vai qua vedi che sta arrivando adesso l'alba va bene un'ottima cosa allora andiamo a prendere qualcosa di migliore il fatto della legna va bene andiamo a prenderci la cobblestone poi facciamo la cobblestone guarda vai qua gira gira rompi rompi un po' di erbetta e vai verso giù ok vai verso giù non così però vabbè ok vieni qua adesso non puoi rompere questa perché questa è la cosa più forte ok cosa fai? prendi il piccone sai come si fa prendi il piccone? prendi il piccone prendi il piccone non ci serve che cosa stai scavando? non serve fare un tunnel prendi il piccone prendi il piccone prendi il piccone aspetta l'ho aggiunto come addimente prendi il piccone con la E con la E primo inventario prendi il piccone il piccone il terzo è piccone lo metti nel primo inventario non la nel primo inventario nel primo inventario non la sotto inventario veloce brava fai ESC esci dalla cosa tasto destro anzi no vai prima sul sul piccone 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 puoi anche andare con i numeri tranquillamente girati ok girati ancora spacca adesso per esempio questa cosa nera grigia ah l'è rotta hai visto che bello? questa qua è la cobblestone ok è più potente rispetto al legno non far così che muori e trovi la lava e muori apposto prendi questa roba perfetto come cosa devi fare? allora prendi la legna e fai una crafting table fai una crafting table sai come si fa la crafting table? lo faccio vedere prima bravo farlo tasto e un po' da ritardare però vabbè vai l'altra legna no non ce la fai vedi che c'è solo due blocchi c'è solo due blocchi la d'arte non serve non è la legna no gli stick non ti servono c'è la crafting table bravo prendi quelle due e trasformali no ancora ok fai la crafting table a 4 solo una devi fare lascia quella prendi quella ok prendi la legna prendi la legna so proprio la legna che è rimasta la prendi la metti insieme all'altra insieme all'altra perfetto esci piazza la crafting table che ne so rompi un blocco più avanti no non puoi piazzare lo stesso blocco tuo rompi un blocco più avanti per esempio la e metti la crafting table eh rompilo prima metti la crafting table là giro il tasto destro bravo tasto destro bravo tasto destro ancora adesso fai il piccone ricordi il crafting del piccone come abbiamo fatto il piccone prima come abbiamo fatto come no due stick in verticale sotto in verticale in verticale sotto ancora togli quello sopra togli quello sopra ancora bravo e metti la cobblestone questa qua che è la pietra sopra no qual è una pala mi serve eh fa la pala vabbè fa la stessa cosa per gli altri stick bravo ma invece da la pala fai il piccone beh lo stesso modo a tre brava uno due e tre bravo prendi il piccone ok e fai pure la spada cosa faccio alla spada aspetta forse aspettiamo forse hai capito il crafting andiamo no non è così piccolo nemmeno così la spada non è niente così no si faceva no con uno solo stick e due sopra di cobblestone prendi lo stick in sotto una spada normale si fa brava brava no sopra sopra quel quel coso perfetto brava questa è la spada più forte di prima ok adesso cosa devi fare esci anzi visto che ci sei fai pure un'altra cosa fai fai lascia no devi cliccare il tasto destro sulla crafting tasto adesso sulla crafting devi uscire prima va bene tasto destro prendi adesso li stick tranquilla parte va bene tasto adesso li stick facciamoci questo a posto ok allora facciamo così lascia stare questo per il momento ok allora va bene allora visto che perché siamo siamo in un buco adesso questo è bello come cosa allora visto che per il momento non riesci a capire come funziona sta cosa ci rivediamo nel prossimo episodio in cui inizieremo ad andare in caverna perché adesso non siamo anche in caverna va bene allora per adesso vi saluto vi ringrazio per stati con noi in questo nuovo video con questa persona orrenda e lecole che parla sotto i video cantando e facendo altre cose che non dovrebbe fare sono brava eh no per nulla e allora ragazzi vi saluto e ringrazio per stati con noi e mettete un like se volete e vedete che fa schifo perché almeno sta zitta ciao 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 Grazie a tutti.